Il System Reference Document, o SRD, è una sorta di bignami di Dungeons & Dragons quinta edizione, contenente solo l'essenziale del sistema di gioco e rilasciato dalla Wizards per chi intende creare mondi e avventure originali. Comincia da qui, il viaggio attraverso gli incantesimi di Dungeons & Dragons. Gli incantesimi pubblicati nell'SRD sono infatti allo stesso tempo il minimo sindacale per far funzionare il gioco e i modelli che gli sviluppatori offrono come punto di riferimento per svilupparne di nuovi. Ehi là! Ci aspettano giorni infuocati e questo è sostanzialmente dovuto al fatto che tutti gli incantesimi che iniziano con Fire o Flame sono consecutivi nell'ordine alfabetico. Il primo di tutti, anche per importanza e fama, sarebbe Palla di Fuoco, ma ne abbiamo parlato in un video degli albori di questo canale, il quale è invecchiato relativamente bene e quindi ve lo linko. Oggi andiamo avanti e parliamo di un'altra magia molto importante, ovvero il trucchetto dardo infuocato. Come tutti i trucchetti inseriti dalla quinta edizione sulla falsa riga dei poteri a volontà della quarta e di quelli che erano gli incantesimi di livello zero della terza edizione. I trucchetti, ricordiamo, hanno la funzione nel gioco di rappresentare quello che può fare un incantatore senza dispendio di risorse e comprendono quindi allo stesso modo magie come questa intese a fare le veci dell'azione di attacco per i combattenti nelle vecchie edizioni maghi, una volta finiti gli slot, potevano solo prendere abbastonate i nemici e altre invece che sono più cassette degli attrezzi da utilizzare negli altri pilastri. Ogni incantatore ha a disposizione un numero limitato di trucchetti da scegliere e quindi sono incantesimi che fanno parte proprio della definizione del personaggio e vanno quindi scelti con cura, evitando ad esempio di averne troppi utilizzabili per lo stesso scopo o nella stessa situazione. Il dardo infuocato è un trucchetto di invocazione disponibile a mago e stregone, si lancia in un'azione a componenti verbale e somatica, lanci, traduco letteralmente una particella di fuoco a una creatura o oggetto nel raggio che è di 36 metri, il che si traduce in un attacco magico contro la classe d'armatura del bersaglio che se colpisce infligge un di 10 danni e dà fuoco all'oggetto se è infiammabile e non è indossato o trasportato. Come per tutti i trucchetti d'attacco il danno aumenta con i tier fino a diventare 4 di 10 a livello 17. Una cosa da notare che è parte della vera forza di questa magia è anzitutto il fatto che può colpire e danneggiare indifferentemente creature o oggetti. Potete cioè lanciarlo un po' contro qualsiasi cosa e potenzialmente ad esempio aprirci una porta facendoci un buco. Se avete di fronte il classico balrog o meglio balor immune al fuoco, potete lanciare il vostro dardo infuocato sul ponte di legno che lo sorregge e farlo precipitare nell'abisso. Qualcuno potrebbe cogliere una citazione in questo esempio. Legno e cuoio sono materiali molto comuni nell'universo britannico medievale di D&D. Saremmo meno fortunati se D&D fosse stato inventato in Italia, dato che storicamente qui si sono sempre usati molto di più i mattoni e altri materiali non particolarmente vulnerabili al fuoco. Tuttavia, per contropartita, il danno da fuoco soffre, come molti vi diranno, il fatto di essere resistito da un sacco di mostri. Quindi è sì vero come si dice che se non riesci a risolvere un problema col fuoco vuol dire che non ne hai usato abbastanza, ma in un'avventura ufficiale come Baldur's Gate, discesa nel laverno, potreste aver bisogno di un po' troppi punti di legno per compensare questo aspetto. Inoltre, come nel caso della maggior parte dei trucchetti d'attacco, anche eliminando le componenti, la manifestazione della magia ci sgama, non possiamo quindi utilizzare questa magia per colpire facendogli ignorri. Potreste non sapere che la comunità di D&D è divisa su quale sia il miglior trucchetto da combattimento fra questo e la deflagrazione occulta. Da quello che ho potuto vedere, la comunità italiana propende più per il trucchetto del Warlock. Commentatori esteri e chi vuole fare più, diciamo, l'intenditore, dicono invece che il trucchetto più forte è questo. Come sempre, la verità sta nel mezzo. Ognuno dei due trucchetti ha i suoi pro e i suoi contro. In generale, trattandosi di scelte che non sono di norma disponibili alle stesse classi, eviterei di fare carte false, ad esempio sprecando un talento, per prendere l'uno o l'altro e mi accontenterei di quello accessibile. Se però avete comunque il dubbio, ad esempio per un Warlock che abbia accesso a trucchetti aggiuntivi con il patto del tomo e non voglia investire suppliche per potenziare la deflagrazione occulta, studiate bene le due magie e scegliete attentamente quello che fa, e più al caso vostro, del vostro stile di gioco e del carattere che volete dare al vostro personaggio. Diffida delle guide che ti offrono molti giudizi e poche informazioni. L'unico modo di vincere a D&D è capire come ogni sua componente può contribuire al tuo divertimento. E ricorda che l'uomo, in fondo, non è altro che una scimmia che gioca.